Sono stati dieci giorni intensi in riva all'Adriatico. L'approccio al campionato di Serie D ad oggi ha portato zero punti. Nella giornata di ieri la società ha scelto di sollevare dall'incarico il direttore generale Clemente Santonastaso. Confermata la fiducia nello staff tecnico nella Rosa che domani sarà impegnata al Cannarsa contro il Porto d'Ascoli. I marchigiani, dal canto loro, hanno già sette punti in classifica, due vittorie interne contro Avezzano e Vastese intervallate dal pareggio in casa del Roma City. Altra nota rilevante è che il Porto d'Ascoli dopo 270 minuti non ha subito ancora una rete. Negli ultimi giorni la Rosa a disposizione di Mister Esposito è stata rinforzata con gli ingaggi di Edoardo Defendi, attaccante classe 91 ex Re Canatese, squadra con la quale ha vinto il campionato di Serie D lo scorso anno. Defendi è cresciuto nel settore giovanile del Brescia e ha disputato anche alcuni campionati di Serie C. Sempre per l'attacco è stato aggiunto il classe 2000 Gabriele Gilbiltierra, cresciuto nel Genova l'ultimo anno in Serie C con la Lucchese. Mentre per il reparto difensivo la società giallorossa ha raggiunto l'accordo con il classe 88 Pietro Sicignano con oltre 300 partite tra Serie D e Lega Pro. Mister Esposito ha già a disposizione i nuovi acquisti per la gara di domani. A partire dalle ore 15 la gara tra Termoli e Porto d'Ascoli verrà diretta dal signor Chris Cuodo di Torre Annunziata.